18 novembre 2018 in previsione di aspettando il Natale a Varano stiamo lavorando per voi, stiamo provando sono le 21.05 le luci che illumineranno il paese per tutte le feste natalizie per l'evento e per tutte le feste natalizie adesso vi porto a far vedere un giro questo è l'ingresso del paese stando grandi luci fettiscenici ah che belle guardate come si presenta il paese un po' visto? adesso fanno un giro per il paese la pezzetta ai pittori riprendiamo il video vediamo faccio vedere tutto il paese illuminata festa e porto giù per il paese per il corso fermano i preparativi mancano guardate il corso è bello guardate che bello questo è solo l'inizio quello è la sistema ancora manca manca 12 giorni bello eh ragazzi venite venite al paesello venite a vedere intanto le luci le montate stasera le proviamo laggiù guardate la stella cometa tutta illuminata tutta illuminata e il campanile in sottofondo guardate che spettacolo sto scorcio del paese e fra un po' ci mettermo tutte le bancarelle e poi le smontiamo quando è finito vabbè bello eh ok vuoi baby mi vabbè vabbè tutta струк d'amore stagg stagg non stagg 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 stagg